Il film si ispira a un racconto di Philip Dick e ha uno stile, a parte gli odierni effetti speciali, simile a certi telefilm degli anni Sessanta diventati oggetto di culto, tipo Il Prigioniero. Siamo verso il 2100. Una società organizza simulazioni di viaggio su Marte. Il problema è che non sempre tutto funziona e Doug, il protagonista della storia, si ritrova in mille pericoli. Un po' violento, un po' intricato e con qualche incongruenza, il film tuttavia offre spettacolo.